Capitolo 3 La Valle delle Ombre Il mattino arrivò anche troppo in fretta per i miei gusti. O forse era l'atmosfera di questo villaggio a darmi un senso di straniamento? Oppure era l'effetto del potere della quercia che permeava l'aria? Di quella notte sarbo solo il ricordo del sonno più tranquillo e ristoratore che avessi mai avuto. Ogni mio muscolo si era rilassato e disteso. Potei giurare che anche i lividi, postumi del combattimento con i goblin, mi facessero meno male e il mio spirito era galvanizzato per l'avventura imminente. Rilluttante, avevo scostato le coperte. Scontroso e rattristato per dovermi svegliare, cominciai a indossare il mio equipaggiamento. Avevo appena finito di sistemare la giubba di cuoio e sopra di questa la maglia metallica che qualcuno bussò alla porta. Kivan fece il suo ingresso con del pan abrustolito e una scodella di zuppa di funghi calda. Aveva un'aria strana, tra uno sbadiglio e l'altro, che io riprendevo ogni volta, mi comunicò che era sveglio da non più di mezz'ora. Eldred, come d'uso per la sua stirpe, non aveva propriamente dormito, bensì trascorso le ore notturne nelle fantasticherie dei sogni e delle meditazioni elfiche, ed era già uscito dalla locanda. Il ranger mi raccontò di averlo incrociato per un soffio nella sala grande, dove questi gli disse che si sarebbe recato alla torre del mago, quella di cui avevo avuto qualche informazione al mio arrivo a Kuldahar. Mentre consumavo il mio pasto, chiesi «Ma cos'è andato a fare da quel mago?» «Non saprei», rispose Kivan. Mi era alzato da poco e non è che capivo molto, ma ha detto qualcosa circa le rovine elfiche e ha pronunciato una parola che non conosco. «Mital, maital, mital mi pare». Ma come detto, mi sentivo così strano che non ho avuto la prontezza di fargli domande in merito. «Credevo che voi ranger dormiste con un occhio solo», dissi io con un mezzo sorriso, mentre appoggiavo la scodella sul tavolino in legno della mia stanza. «Ti posso garantire che è così, non c'è mostro o nemico che mi possa sorprendere nelle terre selvagge». Ma stanotte ho dormito come un sasso. Se mi avessero fatto riposare nella camera più sicura della torre più alta del castello più sorvegliato di Ferun, beh, non mi sarei sentito comunque così protetto. «Guarda, davvero non te lo saprei spiegare meglio di così». «Ho provato la tua stessa sensazione. Normalmente mi sveglio presto e di buona lena, eppure oggi ho fatto davvero fatica». Iniziai a infilare gli stivali. «A parte il suo attuale gestore, devo dire che tutta questa locanda mi piace un sacco, ha un che di familiare. Bah, ti ringrazio per la colazione». Rialzandomi dal letto, «Sai dirmi che ore sono?». «Il sole sta quasi per levarsi. Credo entreremo a breve nella sesta ora». «Ah, bene, ho temuto fosse troppo tardi. Sono quasi pronto comunque. Andiamo a parlare con l'Halfling e mettiamoci in marcia verso stavalle delle ombre». Indossate le protezioni di tibi e braccia, presi le armi e il fagotto e scesi verso la sala principale seguendo Kivan. Scoprì che l'attuale gestore della locanda era aiutato per le pulizie delle camere e per la preparazione dei pasti da alcune donne del luogo. Aldwin uscì dalla cucina portando il suo pasto e qualche forma di pane per noi. Il lavoro era molto ridotto per la mancanza di visitatori e notai che i suoi modi erano gli stessi, bruschi e poco invitanti della sera prima. Ma lasciai stare, non volendo cominciare male la giornata. Io e Kivan pagammo al piccoletto dieci monete ciascuno, che sarebbero servite per mantenere gli alloggi per i prossimi dieci giorni. L'Halfling, però venuto a conoscenza della nostra destinazione, prese le monete sfoggiando il primo sorriso che gli vedessi fare. Ci consegnò il pane avvolto in stoffa leggera e mentre imboccavamo l'uscita ci disse. Ci rivediamo presto allora, al vostro ritorno dalla valle. Uscendo dal portone mi rivolse a Kivan dicendo. Quel nanerottolo non mi piace per niente e se è tanto felice di vederci tornare, lo farò quando anche solo per dargli fastidio. A quell'ora del mattino c'era poca gente in giro. I suoni e l'atmosfera erano però le stesse. Il sole stava sorgendo, tuttavia il tepore dell'aria era rimasto il medesimo della sera prima. Volgendo lo sguardo a nord, dove si vedeva in lontananza la residenza del mago, scorgemmo Eldred sulla via del ritorno. Era la prima volta che lo vedevo con indosso l'armatura e le protezioni e mi fu chiaro il perché mi avesse risposto, quasi con commiserazione, circa il mio equipaggiamento. Indossavo una cotta di maglia di pregiatissima realizzazione. A malincuore dovetti ammettere che anche gli elfi avevano talento e metallurgia. Alla cintura portava due spade lunghe in foderi di cuoio marrone chiaro, mentre la sua figura era avvolta in un mantello di tessuto verde, il cui ricamo lo faceva sembrare costituito da molte foglie intrecciate. Ai piedi portava stivali di cuoio foderato di pelliccia bruna, con delle sfumature verdi, che mai avevo visto prima. Infine, sopra la maglia, un giusta cuore in metallo, recante l'incisione di una stella a otto punte, le cui estremità, superiore e inferiore, erano più lunghe delle altre. Con un sorriso e gli occhi splendenti ci raggiunse e cominciò. Buongiorno miei nuovi amici, vi siete goduti il riposo del tronco? Il che cosa? chiese Kivan. Non ho voluto rovinarvi la sorpresa, da queste parti è così che chiamano il primo sonno al riposo della quercia. Quest'albero fu benedetto dal dio della natura Silvanus e agli occhi dei profani il suo potere è solo il calore che sprigiona nell'ambiente circostante. Ma vedete, i suoi benefici agiscono in maniera molto più sottile e riposando lo avete provato voi stessi. È questo il segreto dell'equilibrio che i druidi di Kuldahar tengono a proteggere. Tutto è in pace e in armonia qui e il vostro corpo e le vostre menti lo hanno avvertito non appena avete chiuso gli occhi. Vi ho lasciato riposare e ho approfittato di questo tempo per far visita al mago Orric e avere qualche consiglio. Orric quindi è il nome del mago? Che ci puoi dire di lui Eldred? chiesi curioso. Sì, si chiama Orric, è un bravo uomo e un erudito, studia la magia elfica e da anni sta cercando l'ubicazione delle rovine della mano dei Seldarin, un'antica fortezza della mia gente che giace in qualche valle tra questi monti. Tali rovine sono le medesime che sto cercando io. La mano cadde vittima di un esercito di orchi secoli addietro e a quanto si dice non furono solo le orde dei nemici a far capitolare la fortezza ma pure il tradimento e una faida con un enclave di nani che erano stati loro alleati. Vedendo il mio sguardo accigliato Eldred aggiunse non ho alcun pregiudizio verso la tua stirpe Excel, ti racconto solo quello che ho saputo e comunque anche se non fosse stato per questa lotta tra le nostre razze, credo che il numero di orchi che assediarono la mano fosse sufficiente per la sua disfatta. Quello però che ossessiona e interessa Orric, continuò Eldred, è che fu lì che venne lanciato uno degli ultimi Mital di cui si abbia notizia. Anticipandomi, Kivan chiese, hai pronunciato questo nome anche mentre stavi uscendo, di cosa si tratta? Il Mital è una complicata magia protettiva, il più importante esempio del nostro potere arcano. Non so darvi molti altri dettagli, non ho studiato le arti magiche, ma Orric in cambio della promessa di portargli informazioni e libri di conoscenza in cui mi dovesse imbattere, mi ha fatto un buon prezzo su qualche pergamena di protezione e su questo. L'elfo ci mostrò quello che sembrava un normalissimo borsello in velluto nero. Lo presi tra le mani, non vedendo niente di insolito. Ottimo tessuto, rune rosse ricamate sul bordo superiore, ma nient'altro degno di nota. Riprendendolo nelle sue mani, l'elfo allentò il nastro rosso che lo teneva chiuso, quindi sorridendo e fissandomi negli occhi, infilò tutto il braccio all'interno dell'apertura del borsello. Il suo arto vi entrò fino alla spalla, senza che la stoffa si deformasse o il braccio sbucasse dall'altra parte. Kivan, dicevi che sei braccia sono meglio di quattro, ma con questo potremmo portare via ancora più tesori senza sentirne il peso, disse l'elfo ridendo. Per gli dèi, una sacca extradimensionale, questo genere di contenitori non è per nulla buon mercato, esclamò il ranger. O sei incredibilmente ricco o il prezzo era dannatamente buono, deve tenerci davvero a quelle rovine. Purtroppo sebbene la mia famiglia sia tra le più importanti della nostra comunità, non sono ricco e comunque aver preso la decisione di partire per l'avventura non mi ha aiutato a ottenere i fondi dai miei parenti. Ma in risposta alla tua domanda, sì, il prezzo era oscenamente allettante e se dovessimo imbatterci in qualcosa di suo interesse, faremmo bene a farglielo avere. Ho sentito parlare di questi contenitori senza fondo, risposi, e anch'io sapevo che costano quanto tutti i tesori che potrebbero contenere. Buon per noi allora che il mago abbia questo smisurato interesse. Fissando l'elfo aggiunsi. Beh, Eldred, a questo punto pare che sia tu che io abbiamo diversi doveri verso questa città. La promessa che ho fatto al fabbro lega me e la riconoscenza del mago lega te. Tu, Kivan, sei il solo che rimanga libero da vincoli. È vero, ed è come piace a me, libero e spensierato. Ma in realtà il dovere che ho verso Mielicchi mi impone di sradicare le forze del male che si annidano tra queste montagne. Dunque, ragazzi, se non avete altri programmi, direi che possiamo incambinarci verso la valle. Dopo una breve sosta all'Emporio di Gert, dove acquistammo viveri a sufficienza, ci dirigemmo verso i confini della comunità dei druidi. Il passo, segnato da Arundel sulla mappa, volgeva verso est e così il sole sorgente cominciò a illuminare i nostri passi. Ma più ci si allontanava da Kuldaar, più la temperatura si abbassava. Il vento prendeva salire d'intensità e insieme a questo anche la neve. I crinali dei monti cominciarono a serrarsi ai nostri lati. Il cammino divenne un lento sgusciare tra due pareti di roccia, distanti tra loro non più di qualche metro. Ebbi la bizzarra idea che qualche divinità annoiata avesse scavato un solco nella viva roccia per un suo capriccio. I colori intorno a noi diventarono alquanto monotoni. Bianco, grigio e nero ci circondavano. Il verde, anche solo quello sporco di qualche muschio o lichene, era del tutto assente. Non parlammo molto. Il vento, anche se non assordante, echeggiava con un muggito sordo alle nostre orecchie. Tenemmo i cappucci ben calati sopra le nostre teste e procedemmo uno dietro l'altro, malgrado lo spazio a disposizione non ce lo imponesse. Kivan era in testa e teneva sotto controllo la strada di fronte a sé, pronto ad avvisarci di pericoli o ospiti indesiderati. Io lo seguivo a ruota, tallonando il suo mantello marrone che ondeggiava ad ogni passo. Eldred chiudeva la fila, niente affatto preoccupato di scivolare o impedito in qualche modo dal manto nevoso. Procedemmo quindi spediti finché il muggito costante degli elementi cambiò, portando alla nostra attenzione rumori inattesi, ruggiti e versi ostili di qualche creatura. Kivan si fermò, facendoci segno di guardare in avanti. Un oscuro puntolino si delineò in lontananza e dentro poco la sua figura si fece più dettagliata, rivelando un giovane uomo che sembrava correre disperato nella nostra direzione. Accelerammo l'andatura, mentre sbucavamo in uno spiazzo che si apriva al di fuori del sentiero tra le rocce. Tutti e tre mettemmo mano alle armi. Kivan imbracciò l'arco e incoccò una freccia, mentre io con lo scudo alzato raggiungevo l'uomo. Egli si piegò ansante tra me ed Eldred. Notai che il suo viso aveva un pallore spettrale, nonostante la fatica della corsa. Senza riprendere fiato urlò. Correte! La valle brulica di Yeti! Sono riuscito a distanziarli, ma due di loro mi hanno seguito fin qui! Aiutatemi! Dal fondo del sentiero i due mostri si avvicinarono con ampie falcate. Al mio fianco Eldred sguainò le spade, nell'attimo in cui Kivan scoccava la prima di diverse frecce. Lo Yeti che per primo ci fu addosso, si ritrovò tre frecce che fuoriuscivano dal petto e il sangue cominciò a lordargli la pelliccia bianca. L'elfo si parò di fronte alla bestia. Tenne a bada la sua furia selvaggia usando le spade. Con facilità disarmante, sgattaiolò dagli attacchi del mostro, che cominciò a risentire delle ferite. Io invece scattai verso il secondo mostro, al riparo del mio scudo. Urlai all'indirizzo del mio nemico, per le asce gemelle di clan Gheddin! Schivando una sua artigliata, impattai con lo scudo sul suo fianco. Lo Yeti era più di due volte la mia statura, ma come recita un detto dei nani, più grandi sono, più rumore fanno quando cadono. E così caricai. Cercando di non perdere l'equilibrio, la creatura calò la zampa su di me, con furia selvaggia. Io riuscì a spostare lo scudo in guardia alta. Tuttavia il colpo che mi investì fu talmente potente che mi si piegarono le gambe. Trovandomi all'altezza delle sue gambe, reagì distinto, menando una sferzata di taglio verso il ginocchio dello Yeti. Un ruggito di dolore arrivò alle mie orecchie, mentre il nemico cadeva su un fianco. Il filo nero dell'ascia aveva reciso sia i tendini che rotto buona parte dell'osso. Gli saltai quindi addosso, approfittando del vantaggio e bloccando con lo scudo un'altra artigliata, Calai l'ascia diritta verso la fronte del mostro. Assassina della fede, si fermò solo dopo aver diviso in due il cranio della bestia. La battaglia era durata non più di qualche minuto. Ebbi il mio da fare per liberare l'ascia. Eldred, poco lontano, puliva le lame sulla folta pelliccia del primo Yeti ucciso. Lo sconosciuto, che si era riparato dietro Kivan, si avvicinò timidamente, come temendo che i mostri si rialzassero all'improvviso. Con affanno ci disse. Grazie, credevo fosse giunta la mia ora. E diavogli degli inferi, non metterò mai più piede in quella valle. Ogni tumulo era infestato di non morti e lungo i sentieri erano in agguato questi Yeti. Vuoi dirmi che sei arrivato di corsa fin qui dalla valle? Sì, anche se non sono uno sportivo. La valle non è molto distante. All'inizio ho cercato di depistarli nascondendomi fra le rocce, ma mi trovavano sempre. Ho cercato di confonderli con qualche incantesimo di illusione. Però sono un novizio presso la torre dell'arcano di Luskan e non li ho potuti ingannare a lungo. E come mai un novizio si è avventurato in quella valle da solo? Sei pazzo o sei stupido? Aggiunsi. Non ero da solo. Ero al seguito della mia insegnante, Selene Ventoazzurro, maestra di illusione e negromanzia della guglia nord della torre dell'arcano. Abbiamo usato un sortilegio di teletrasporto per arrivare all'interno del tumulo principale, dove è sepolto Kresselak, il lupo nero. Ci eravamo recati laggiù per esplorare la tomba e cercare un oggetto che la mia maestra bramava. Ma siamo rimasti tagliati fuori a causa di gruppi di non morti che brulicavano ovunque lungo i tunnel. Quando l'ho vista sparire nelle profondità della cripta inferiore, tallonata da quelle creature, ho sentito il suo grido con cui mi intimava di scappare e salvarmi la vita. Credi che sia ancora viva? Chiese Kivan con interesse. Io non vedo come possa aver affrontato quegli esseri ed essersela cavata, sospirò il giovane in tono infelice. Io non sottovaluterei la tua insegnante. È testarda e piena di risorse, aggiunse il ranger con furberia, estraendo le frecce dal corpo dello Yeti. Rivolto a me, continuò dicendo. Beh, Excel, ora tutti e tre abbiamo un motivo personale per proseguire le ricerche. Io conosco Selene. Lei è una vecchia amica, diciamo. Se davvero non è lontana la valle, vi chiedo di procedere in fretta. Come ti chiami, Novizio? Celtic, signore. Bene, Celtic. Arrivato Kuldar, chiedi all'arcidruido Arundel di trovarti un alloggio. Avevamo i nostri motivi per recarci nella valle. Ed ora, se i miei compagni sono d'accordo, tenteremo di aiutare anche la tua insegnante, se fosse ancora in vita. Se non dovessimo tornare quando l'inverno sarà passato, potrei andare ad avvisare il consiglio dell'arcano circa il destino di una delle sue maestre. Rassicurato che la strada verso Kuldar era sgombra di pericoli, il Novizio riprese il cammino verso il villaggio. Kivan si rimise l'arco a tracolla e partì spedito lungo il sentiero. La sua fretta fu da me ed Eldred condivisa, benché non avessimo avuto opportunità di saperne di più. Il solco delle montagne presa farsi in discesa e i raggi del sole cominciarono a diventare fiocchi e lontani. Era forse questo un effetto della coltre di polvere di neve sulla cima del dirupo? Il nome di Valle delle Ombre mi sembrò più che mai appropriato. Procedemmo spediti, ma con molta attenzione. Vento e neve erano ancora costanti, ma quando uscimmo dal sentiero incastonato tra i dirupi, osservando il paesaggio, rimanemmo stupiti. La valle non era come me l'ero figurata. Invece di uno spazio piano ricavato ai piedi dei monti, quello che vidi era una sorta di costoni e terrazze, unite tra loro da sentieri di roccia, ai cui lati si aprivano burroni. In una piattaforma più grande delle altre, quasi al centro della valle, si ergeva alta e inquietante una scultura ricavata dalla pietra. Anche se era evidente il prezzo che il tempo le aveva richiesto, quella statua raffigurava una sagoma seduta e ammantata, con il capo chino in preghiera. Una penombra quasi crepuscolare avvolgeva tutto il posto, nonostante fosse mattino. Lontani lamenti del vento tra le rocce ci accolsero, mischiati a rumore di sassi cadenti e altri suoni meno identificabili. Persino Eldred si fece serio inoltrandosi lungo la via fra i canyon e l'attenzione di tutti e tre era al massimo. Con le armi in pugno e i cappucci calati sulle spalle ci muovemmo con lentezza e cautela. La strada che portava i tumuli era stretta e spruzzata di neve. Il vento soffiava così forte da impedirci quasi i movimenti e dietro ogni angolo poteva annidarsi un nemico. Kivan, l'arco in pugno, si misa alla retroguardia e io con lo scudo alzato aprivo la pista. Eppure ogni nostra precauzione fu vana perché lungo le passarelle di pietra e le terrazze non trovammo alcun pericolo. Era come se tutto il posto fosse desolato e spoglio. Dopo una decina di minuti arrivammo ai margini del grande tumulo. Due statue di pietra si ergevano ai lati di un'apertura nera. Doveva essere l'entrata alla tomba ma le sue porte di granito erano divelte e giacevano in pezzi. Qualcuno o qualcosa aveva preso d'assalto il posto. Qualcuno o qualcosa dotato di abbastanza potere per frantumare delle lastre di granito di una spanna di spessore. Cos'è successo qui? chiese rivolto agli altri. Non saprei, rispose Eldred. Il novizio, ha detto che si sono teletrasportati già all'interno e quindi non è stata opera dell'incantatrice. Il ranger, analizzando il terreno intorno alle macerie e scrutando appena all'interno del tumulo, puntualizzò. Ragazzi, ovunque qui intorno ci sono orme di ieti. Tantissime orme di ieti. Vicino all'entrata e nel tunnel non si vedono perché il suolo è completamente calpestato. Ma i segni sono chiari. Anche se non conosco il motivo, a occhio e croce una cinquantina di quelle bestie pelose sono passate di qua. Ah, splendido! ribattei sarcastico. Il posto era già pericoloso e infestato dai non morti e ora si aggiungono gli ieti. Non stai valutando bene la faccenda, Excel, rispose il ranger. Se gli ieti caricano in massa una tomba difesa dai non morti, cosa credi che possa accadere? Mi chiedo però cosa li abbia spinti fin qui. Hanno una mente semplice e non sono capaci di organizzarsi per un attacco congiunto di questo stampo. Entriamo e scopriamolo, ma teniamoci libera una via di fuga se le cose dovessero precipitare. Detto questo, il ranger superò le porte infrante e si perse nell'oscurità. Io e l'elfo lo seguimmo. Le tenebre ebbero vita breve però, perché nel tunnel in discesa che percorrevamo notammo in lontananza un chiarore. Nessun rumore specifico ci arrivava alle orecchie. L'aria era umida e con un odore di stantio, ma comunque respirabile. Avanzammo focalizzandoci sulla luce e ritrovandoci a inciampare su corpi straziati e carcasse disseminate sul pavimento. Segni di lotta e sangue. Il ranger ci fece fermare e si abbassò a controllare quelle tracce nel fioco chiarore. La battaglia è stata feroce, ma non servono gli occhi di un ranger per dirvi questo. Quello che posso dirvi è che oltre ai corpi degli ieti ci sono anche ossa sparse, ossa ammuffite e sbiancate. Scheletri non morti hanno lottato e sono stati annientati. Dubito che ne siano rimasti molti, per questo non abbiamo ancora trovato ostacoli. Mi verrebbe da dire che è un bene, ma... E con queste parole si avviò nuovamente verso il cuore del tumulo. Il chiarore che avevamo notato da lontano si rivelò essere la luce di diverse torce appese alle pareti. Emettevano un lucore pallido, verdognolo e spettrale, irradiante un vago calore. Era probabilmente una luce perpetua, alimentata da qualche incantesimo legato a rituali negromantici. Con l'ambiente così rischiarato, le tracce dello scontro che si era svolto nei tunnel e nelle sale si mostrarono in tutto il loro macabro spettacolo. Superammo diverse stanze decorate con pittura alle pareti, raffiguranti scene di battaglia e di caccia. Ossa, teschi e armi arrugginite erano dappertutto. Brandelli di pellicce e sangue lordavano ogni cosa, ma sembrava che gli Ieti avessero ottenuto la vittoria e fossero avanzati ancora più in profondità. Tracce di fuoco e fumo su alcuni corpi e sulle pareti denotavano dove una trappola era stata fatta scattare. Più si scendeva e più i non morti cambiavano, passando da semplici scheletri a orripilanti cadaveri Goul, addirittura anche a qualche mummia. Varie diramazioni si susseguivano ai nostri lati, ciò nonostante decidemmo di seguire le tracce della battaglia. Sulle pareti e inciso nel pavimento continuava a campeggiare il contrassegno di una zampa di lupo nera e artigliata che doveva essere il simbolo dell'uomo lì sepolto, quel Kresselak nominato dal novizio. Procedemmo guardinghi temendo l'agguato di nemici. I nostri occhi scrutarono verso le alcove i sarcofagi, sicuramente pieni di oggetti funebri preziosi, ma la nostra attenzione era puntata sul trovare Selene, viva o morta che fosse. Soprattutto Kivan sembrava particolarmente spinto in avanti da un'ansietà che non gli avevo mai visto. In quel mentre urlaci giunsero in tetraeco. La voce di una donna era risultata chiara e Kivan balzò in avanti segnalandoci di seguirlo. Ci ritrovammo davanti a una sala gigantesca, anche questa con le porte d'accesso di velte scardinate. All'interno stavano vasche enormi, piene di un liquido melmoso che irradiava un bagliore azzurrognolo, come di luce fredda, e oltre a queste c'erano due imponenti ieti, i più grandi che avessi mai visto, con la pelliccia sporca di rosso. Tra di loro stava una donna messa di spalle. Non sembrava in pericolo, anzi pareva che li comandasse e stesse inveendo contro qualcuno di fronte a lei. «Sgualdrina! Credevi che le tue misere armate potessero ostacolare il potere della mia dea? Estinguerò i ridicoli fuochi di questa tomba e il gelo benedetto di Auril invaderà ogni cosa!» strepitò la donna capo delle belve. «Ti ho già detto che non sono io che ho costruito questo posto. Sono una maestra della torre dell'arcano di Luskan. Sono arrivata qui poche ore fa per depredare la cripta inferiore.» Rispose una seconda donna che non vedevamo. «Non mentire! I non morti ci hanno attaccato su tuo ordine! Porti le vesti di una negromante e menti solo per salvarti la pelle! Ma adesso sei rimasta sola! Arrenditi e cadi nell'abbraccio di Auril! Uccidetela!» Entrammo in azione a quest'ultima parola. Kivan scoccò due frecce in rapida successione e queste penetrarono nella nuca dello Yeti di destra, facendolo crollare in avanti. La donna davanti a noi si girò confusa, mentre la negromante alle sue spalle era impegnata a tenere a bada l'altro mostro. Sussultai di stupore quando notai il volto della signora degli Yeti, poiché in esso riconobbi Lysan, la cameriera della taverna di Kuldar, che aveva liquidato freddamente le avance del ranger. A quanto aveva appena detto, era una adoratrice di Auril, la malvagia dea del freddo. Eldred, con passo felino, aggirò la vasca lucente, andando in soccorso della donna attaccata dallo Yeti rimasto. Io mi mossi per fronteggiare Lysan, venendo trafitto dal suo sguardo gelido. Come osate ostacolare il cammino di una sacerdotessa della dea Auril, sbraitò furiosa. Anche voi a guardia di questi fuochi sacrileghi, andatevene, se vi è cara la vita, minacciò con foga. E se fosse in voi, lascerei al suo destino anche il villaggio, quell'orribile albero non ne avrà ancora per molto. Carugna, la insultai, fremendo di rabbia e stupore. Ci sei tu dunque dietro tutto ciò. Vorrei poterti dire di sì, nano, ma sto solo sfruttando mio vantaggio una favorevole situazione. E dal momento che non avete intenzione di lasciarmi terminare, morirete. Appena finita la frase, la sacerdotessa cominciò a recitare una formula arcana, proprio mentre Kivan ed Eldred, in soccorso della negromante, combattevano contro l'ultimo Yeti. Alla conclusione della litania, l'aria cominciò a farsi più fredda, addensandosi in una nuvola bianca davanti a lei. La nebbia presa a congelarsi e a delinearsi in una figura umanoide. Il ghiaccio si spessì e cristallizzò, dando vita a un elementale del ghiaccio che si diresse verso i miei due compagni e la maga. Io, barricato dietro allo scudo, avanzai di corsa all'indirizzo di Lysan. Speravo di spezzare la sua concentrazione per non permetterle di lanciare un altro incantesimo, ma non fui abbastanza veloce. Attivando un qualche tipo di magia di contingenza, la pelle della sacerdotessa diventò di pietra e un muro di ghiaccio alto un metro la circondò, mentre decine di dardi di ghiaccio presero a volteggiarle attorno. Ero troppo ormai lanciato per fermarmi. Così ben piazzato dietro lo scudo, balzai per superare il muro di ghiaccio, ma Lysan mi scagliò addosso tutti i dardi che cominciarono a investirmi insieme con una ventata gelida. Eppure il freddo e i dardi scomparvero prima di colpirmi in pieno. Il muro si sgretolò e la mia ascia, che ero sicuro potesse solo graffiare la pelle di pietra della sacerdotessa, le affondò nel petto. I suoi occhi si sgranarono per la sorpresa e così rimasero, mentre la loro luce si spegneva. Mi ritrovai sbilanciato perché non mi aspettavo quell'esito e caddi sul corpo della sacerdotessa. Ebbi solo poco tempo per metabolizzare il fatto di aver ucciso il mio primo essere umano, che peraltro era una donna. Riuscì a udire oltre a me un rumore di cristalli infranti, segno che l'elementale non era più tenuto insieme dal potere dell'invocatrice. Eldred si avvicinò, mi aiutò a rialzarmi e disse Complimenti, giovane nano! Ma che cosa hai fatto? Che Moradin mi baci le natiche se lo so! Credevo di essere nei guai e poi... puff! Rimossi l'ascia e la liberai dal corpo di Lysan. Il filo nero della lama era inalterato, ma il resto del metallo ora era avvolto da un'aura azzurra. Aspetta! Assassina della fede! Questo è il suo nome! Conlan mi disse del suo potere di disperdere le magie divine! E guardai l'arma che lentamente perdeva il bagliore azzurro. Osservando ancora il volto della ex cameriera di Kuldahar, fu sorpreso di non sentire rimorso o sensi di colpa. Mi aveva attaccato e avrebbe ucciso tutti quanti nel villaggio. Serviva una dea malvagia e non avrei potuto far altro che difendermi. Tuttavia mi chinai lo stesso per chiuderle le palpebre e rialzandomi mi girai verso Kivan e la maga sconosciuta, squadrandola con curiosità. Doveva avere grosso modo la stessa età del ranger, anche se non ho mai saputo giudicare l'invecchiamento negli umani. I suoi capelli castano chiaro erano arruffati per la lotta, ma le sue vesti erano intatte, a parte il leggero mantello che recava i segni di artigliate su tutta la sua lunghezza. Ci guardava come per soppesarci e senza timore. Dopo un minuto di silenzio prese parola e disse «Immagino di dovervi ringraziare. La giornata non è andata bene come avevo programmato, ma quantomeno sono salva. Tutto procedeva bene finché non è arrivata quella pazza con le sue orde di ieti». Prendendo a sua volta parola, Kivan proclamò «Eldret, Excel, vi presento Selene Ventozzurro». A quanto pare l'agitazione della battaglia le ha fatto scordare le buone maniere. «Non ho scordato un bel niente, ma se non mi dite perché siete qui e alla svelta, dovrò ritenere anche voi tre come nemici». «Signora, la rabboni Eldret, abbiamo avuto solo qualche accenno sulle tue motivazioni da Celtic. Noi siamo qui su incarico dell'arcidruido Arundel di Kuldar. La nostra missione è di scoprire l'origine del male che sembra aver colpito la regione, ma mi pare di intuire che tu già conosca Kivan». «Lo conosco», confermò guardandolo con aria delusa. «Se avete parlato con Celtic vuol dire che è ancora vivo ed è un bene. Non voglio tediarvi esponendovi i miei scopi, ma sono qui principalmente in cerca del medaglione di Kresselak, il lupo nero. Questa è la tomba di un grande condottiero barbaro vissuto secoli fa, con questo fama e gloria, come uno dei guerrieri più feroci e potenti del nord. Era protetto da un'armatura nera come la notte e al suo collo portava sempre un medaglione a forma di zampa di lupo. Sto cercando quel medaglione. Se desiderate entrare nella sala del sarcofago, posso unirmi a voi per ora, ma sappiate che quel medaglione è mio». «Selene, noi siamo qui per un motivo più nobile, se mi è concesso dirlo». L'apostrofo Kivan con aria di importanza. «Non nascondo che se troveremo altri bottini incustoditi ne approfitteremo, ma se vuoi tanto quel medaglione, va bene, è tuo. Credo che anche i miei compagni siano d'accordo». Annuimmo seriamente. «Va bene, Kivan. Vedo che ti sei dedicato completamente alla tua dea della foresta Mielicchi. Abbiamo un accordo allora. Negli ultimi anni ho depredato i tumuli minori della valle e sono entrata in possesso delle chiavi per aprire la cripta funeraria. Direi che l'avermi incontrata è stato un colpo di fortuna per voi. Vogliamo procedere?» «Un attimo», disse interrompendo la maga. «Non mi tornano un po' di cose qui. Perché sei venuta in questo posto accompagnata da un novizio, se sapevi già a cosa andavi incontro? Celtic ti ha vista in balia di decine di nemici. Come hai fatto a sopravvivere? E perché la sacerdotessa disse che tu le hai mandato contro i morti?» «Come ho detto, i miei motivi per quello che ho fatto. Posso dirvi però che era nei miei progetti che Celtic si salvasse. Inoltre sono una negromante e anche se gli incantesimi di questo posto legano i morti a proteggere la tomba del loro defunto capitano, il mio potere era sufficiente a tenerli lontani da me. Quando quella strega mi ha sorpreso alle spalle con le sue bestie, ho ordinato agli scheletri e ai ghoul di attaccare gli intrusi, ma erano troppi e hanno distrutto i difensori di questa tomba. Siete arrivati quando stavo per liberarmi di lei.» «La modestia non ti fa difetto, Selene, come sempre. Diciamo che le cose si sono risolte bene. Punto.» Decretò il Ranger. «Pensala come vuoi.» Rispose la donna. «Come stavo dicendo, i meccanismi che aprono alla porta che sigilla la stanza del sarcofago di Kresselak necessita di tre chiavi che sono in mio possesso. Direi che merito il diritto di scegliere una parte dei tesori su cui metteremo le mani.» «Mmm, mi sembra giusto.» Approvai. «Prima vediamo però di metterci le mani sopra.» La maga si avvicinò a un gigantesco mosaico sul pavimento di fronte alla porta della cripta interna. Il soggetto era il medesimo di cui era cosparso tutto il tumulo, una zampa di lupo. Inserì ogni chiave in una serratura che si celava in tre degli artigli del mosaico e dopo averle girate tutte, un rumore metallico giunse dal portone di fronte a noi. «Quello che si cela dietro questo portale mi è sconosciuto. Ho cercato in tutti i modi di scoprire cosa vi fosse, ma potenti magie impediscono la chiaroveggenza e ogni tipo di divinazione. Questo è il mio consiglio. Preparatevi a combattere.» Avvertì Selene. «Alzai lo scudo e invitai gli altri a stare allerta dietro di me.» Kivan era pronto con l'arco ed Eldred era pronto a scattare con una posa da felino. La maga schioccò le dita e uno scudo di energia le si parò davanti. Avanzammo compatti. Tenevo l'ascia in guardia bassa pronta a colpire e con un piede spinsi con forza verso l'interno le porte di granito. E quindi entrammo. Grazie di loro a l'arco edmpio. Grazie. Grazie a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti.